Il nickname utilizzato su Google era già esplicito. Serpente tentatore, uno dei profili con il quale un 52enne salernitano con gravi precedenti penali e di polizia è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Salerno a seguito di un'indagine che ha riscontrato nel computer del professionista un medico di base, un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. L'accusa nei suoi confronti anche di diffusione a mezzo della rete di materiale pedopornografico oltre alla detenzione di immagini e video sessualmente espliciti. Tutto trae origine da una precedente inchiesta avviata in seguito alla ricezione di numerose mail e telefonate anonime a carattere minatorio ricevute proprio da un carabiniere legate all'arresto dello stesso soggetto per assenteismo dal pubblico impiego. Proprio nell'ambito delle indagini ed un decreto di perquisizione domiciliare ed informatico era stata trovata una postazione internet collegata ad un alveare di supporti magnetici sui quali i carabinieri hanno voluto vederci chiaro. Sono stati trovati così 30 tetabytes di video e immagini a contenuto sessualmente esplicito. Sottoposta a sequestro tutta l'attrezzatura è stata quindi avviata l'analisi potendo dunque accertare la detenzione di oltre 1500 video e quasi 10.000 immagini a contenuto pedopornografico con la diffusione ad un indefinito numero di utenti avvenuta principalmente attraverso l'applicativo Emule. Ma non finisce qui, l'uomo dovrà rispondere anche dell'accusa di revenge porn poiché al termine di una relazione amorosa con una ottantenne poi bruscamente interrotta aveva diffuso sempre su internet video espliciti dei loro incontri sessuali. La donna una volta identificata davanti ai carabinieri ha preso della vendetta posta dall'ex amante. Durante le operazioni di arresto si è proceduto anche al sequestro preventivo di tre account Google già individuati tra cui appunto quello di serpente tentatore e al sequestro di una nuova postazione internet e alle relative memorie di massa ad esse collegate atteso che all'atto dell'irruzione erano ancora in corso condotte criminali analoghe a quelle oggetto dell'inchiesta.